ebbene carissimi amici ben ritrovati sul mio canale youtube chiudiamo le mie proposte mensili del mese di aprile con il diaro del mister previsioni metodi lotto aprile 2024 qui trovate alcuni metodi selezionati dal mio canale youtube con le previsioni parziali quindi previsioni o di ambata o di ambo a tutte per avere i metodi completi per ambo secco per terno ed avere informazioni su come acquisirli mi contattate in privato via whatsapp 348 75 47 715 numero che trovate in descrizione in ogni mio video sul mio canale dal diaro del mister cari amici ogni mese arrivano sempre bellissime vincite arrivano vincite molto importanti e qui parliamo di previsioni scritte nero su bianco verificabili e vincenti il video è diciamo visionabile da tutti voi e potete verificare ogni mese ciò che arriva quindi sono proposte sono metodi che ormai chi conosce i miei metodi sa che pagano da anni che continueranno a pagare sono metodi che non scadono mai e quando andate ad acquisire sapete avere in mano dei metodi che non hanno scadenza li potete sempre utilizzare basterebbe citare soltanto il metodo venezia da sbanco che cosa combina ogni mese allora cominciamo ambata perpetua ve l'ho già presentata abbiamo il 21 firenze prima e quinta posizione tentiamo l'ambo 21 90 firenze nazionale e tutte attenzione a questo milanapoli con il 90 milano e napoli anche terza e quarta posizione milanapoli è sempre un grande metodo il mese scorso avevamo il 60 e lo abbiamo centrato venezia da sbanco il mese di marzo avevamo il 16 stravinto alla grande questo mese abbiamo il 13 attenzione anche prima e quinta posizione lambata turbo ha sbancato anche a marzo avevamo il 36 63 andate a vedere quante volte è uscito tra le ruote di bari napoli 3 e 30 bari napoli anche prima e seconda posizione questo metodo lo tentiamo nei quattro colpi perché un metodo veloce ambata zig zag bari firenze 42 anche prima e seconda posizione lambata ko bari nazionale il 48 anche prima e quinta posizione gli ambi infallibili abbiamo due ambi a tutte 50 17 50 47 le quattro terzine 50 17 15 50 17 19 50 47 45 50 47 49 ambata fatata anche a marzo ha pagato questo mese abbiamo il 5 prima e quinta posizione l'incrocio vincente abbiamo bari roma con il 35 anche seconda e quarta posizione due ottimi metodi lambata big assolutamente da prendere lambata big è un metodo assolutamente da avere questo mese abbiamo bari calleri 63 anche prima e seconda posizione e lambata meraviglia bari calleri 36 anche prima e seconda posizione allora io vi do un'indicazione è già successo questa cosa per il mese di aprile siccome un ambo di figura 9 tra i tra i due metodi ascoltatemi bene quello che dico ci giochiamo un ambo secco unico sulle ruote di bari calleri che è proprio 36 63 l'unione dei due metodi attenzione bene 36 63 ambo unico dall'unione di ambata big di ambata meraviglia da giocare sulle ruote di bari calleri per il mese di aprile è un bellissimo ambo di figura 9 ok 63 36 l'unione delle due ambate dei due metodi lo special chiudiamo ambo secco unico 20 22 a tutte con le terzine 20 22 25 20 22 26 e questo è il diaro del mister cari amici mi raccomando assegnarvi bene l'indicazione che vi ho dato perché molti quello abbiamo vinto mi sembra nel mese di febbraio l'ambo proprio secco dall'unione dei due metodi se lo sono persi l'ambata di ambata big di 63 quella di ambata meraviglia il 36 noi li uniamo e facciamo l'ambo secco bari calleri per aprile chi fosse interessato ad acquisire il singolo metodo pure il pacchetto metodi del diaro del mister mi contatti via whatsapp per adesso saluto a tutti mister sbancolotto